La Lega con coerenza appoggia ancora una volta gli insegnanti italiani che sono stati traditi da questo Presidente del Consiglio. Se vi ricordate qualche mese fa aveva lanciato La Buona Scuola, secondo lui avrebbe dovuto risolvere i problemi degli studenti e degli insegnanti italiani. Oggi ci troviamo qui con insegnanti che hanno lavorato per anni, hanno lavorato bene per anni, si sono impegnati per i nostri figli e sono stati traditi da chi? Dal Ministero e dal Presidente del Consiglio. L'abbiamo fatto durante il dibattito e durante la votazione della Buona Scuola, di quel decreto legge ridicolo che ha umiliato la scuola italiana. Lo facciamo ancora adesso, siamo a fianco degli insegnanti e lo saremo fino alla fine.